Continua la resistenza degli ultimi combattenti, fedeli al colonnello Gheddafi a Sirte, diventata un cumulo di macerie dopo quattro settimane di intensi bombardamenti. I soldati lealisti sono presenti a ovest e a nord-ovest della città, dove ci sono stati spari di razzi e colpi di armi leggere. Secondo fonti mediche, in una settimana, solo tra i militanti del Consiglio Nazionale di Transizione, ci sono state alcune centinaia di vittime. Il CNT non ha ancora confermato ufficialmente la cattura di Motassim Gheddafi, quarto genito del Rais, l'ultimo a trovarsi ancora in Libia. Il CNT attende solo la caduta di Sirte per proclamare la liberazione totale della Libia e avviare la formazione di un governo che possa gestire la fase di transizione. A Tripoli ieri erano stati sparati numerosi proiettili in segno di festeggiamento, ma il figlio del colonnello risulta tuttora introvabile.